Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto alle ultime notizie. Importante operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha smantellato un'organizzazione sul territorio dedita al caporalato. Sotto sequestro due laboratori tessili di Istrana dove secondo le indagini operavano lavoratori stranieri richiedenti asilo oppure addirittura con permesso di soggiorno scaduto. Negli edifici erano stati ricavati degli spazi dove queste persone vivevano. Gli immigrati vengono ritenuti vittime di meccanismi di sfruttamento e illeciti che normalmente vengono appunto definiti come caporalato. Sono state riscontrate nella stessa operazione anche delle irregolarità a carattere fiscale. Gli amministratori delle società coinvolte sono stati denunciati. Si trova nel carcere minorile accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane che ha Treviso ha brutalmente picchiato un uomo che aveva preso le difese di una passante che aveva visto essere importunata dai due minori. Una vicenda di una violenza inaudita che ha sconvolto la città. L'uomo aggredito nel frattempo avrebbe espresso la volontà di incontrare il suo aggressore direttamente. Un pomeriggio tremendo quello che si è consumato qualche giorno fa nel quale anche due agenti della polizia sono rimasti feriti. E adesso ci spostiamo a Rovigo. Anche qui una cronaca tremenda. È stata recuperata ieri l'automobile con all'interno il corpo di un uomo. Sentite. È stato recuperato durante la notte dai somozzatori dei Vigili del Fuoco l'uomo finito con l'auto nel fiume a Taglio di Po in provincia di Rovigo nella giornata di venerdì. La svolta sabato pomeriggio dopo l'individuazione dell'auto con un ecoscandaglio da un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco. I somozzatori di Venezia hanno predisposto una serie di immersioni per la verifica visiva e per poter vincolare l'auto. Nella notte il recupero dell'uomo alla guida. Le operazioni di recupero sono state rese molto difficili dalle forti correnti. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto è stata recuperata nella giornata. Una tragedia nella tragedia. La moglie era morta il 4 aprile scorso e l'uomo, il 51enne, non ha retto lanciandosi nel Po con la propria auto. Via libera del magistrato per l'esequie. Non sono necessarie ulteriori approfondimenti investigativi in quanto era apparso drammaticamente tutto chiaro. L'uomo aveva lasciato scritte le sue intenzioni in un biglietto. A San Martino di Lupari, in provincia di Padova, in seguimento tra un'auto dei carabinieri e una macchina sospetta che non si era fermata all'alt della pattuglia. Nella corsa il mezzo in fuga è addirittura finito fuori strada. Uno degli occupanti è riuscito a dileguarsi scappando attraverso i campi mentre uno è stato bloccato e identificato. Dentro al veicolo c'erano numerosi arnesi da scasso, c'era anche un passamontagna. Adesso andiamo a Verona dove c'è stato un incidente, una donna è rimasta ferita. Sentiamo. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per un'autovettura finita rovesciata. Il sinistro è venuto in via Brigata Osta a Verona ed è stato causato dalla stessa donna che ha perso il controllo del veicolo, rimanendo ferita. I pompieri accorsi dalla centrale hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente e rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita all'ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso che si sono concluse intorno alle 16.30 la viabilità è rimasta nel frattempo bloccata. E parliamo ancora di incidenti stradali. Andiamo in provincia di Treviso dove gli occupanti di un'automobile dopo essere usciti di strada hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga. Sentiamo cosa è accaduto. La scorsa notte, poco prima delle due, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santi a Casieri in provincia di Treviso per un'auto finita rovesciata fuori strada dopo aver abbattuto un palo. All'arrivo dei soccorsi non è stata trovata alcuna persona. I pompieri arrivati da Treviso hanno messo in sicurezza la Volkswagen T-Roc gravemente danneggiata controllando che non vi fossero persone coinvolte nelle adiacenze. Il conducente, subito dopo il sinistro, si è allontanato. Le forze dell'ordine presenti sia per deviare il traffico che per cercare di identificare il conducente della vettura coinvolta. Sul posto anche il personale del SUEM. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Salgono i prezzi dei carburanti con la benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Oggi un pieno costa circa 7 euro in più. A calcolarlo è il Codacons che in una nota valuta le ripercussioni dei rincari sulle tasche degli automobilisti italiani. A denunciare i prezzi della benzina che tornano a sfondare la soglia psicologica dei 2.5 al litro al servito in autostrada è Asso Utenti che ha monitorato i listini comunicati dai gestori all'apposito osservatorio che si trova al Mimit. Adesso parliamo di un evento storico, un evento molto bello e molto particolare che si è svolto a Trebaseleghe che ha ricevuto il titolo di città di Trebaseleghe. Grande festa con il coinvolgimento di tutta la città proprio nel weekend appena trascorso. Sindaco Zoggio, un importante evento oggi, il riconoscimento da parte anche di tutta la collettività di Trebaseleghe per la città appunto di Trebaseleghe. Un momento storico per la città? Sì, è un percorso che questa sera ufficializzeremo, cioè il riconoscimento del titolo di città alla nostra cara Trebaseleghe. È un percorso che è iniziato diversi anni fa ma per questa amministrazione ha deciso di fare la richiesta al Presidente della Repubblica di questo riconoscimento perché è previsto che comuni insigni per ricordi o memorie storiche o per importanza attuale possano ricevere questo riconoscimento. Abbiamo fatto una relazione di tutte le motivazioni storiche, sociali, economiche che hanno portato Trebaseleghe davvero a un livello di sviluppo molto alto e effettivamente c'è stata riconosciuta la possibilità di chiamarci città di Trebaseleghe con un decreto che Mattarella ha firmato il 22 giugno del 2023. Quindi è un momento storico per Trebaseleghe. È stato un momento di intenso lavoro anche per l'amministrazione. Che cosa cambierà dunque per la città di Trebaseleghe? Allora voglio rassicurare non cambia nulla né in termini di risorse economiche né in termini di tasse però sicuramente è uno stimolo, un riconoscimento della nostra storia e anche dell'impegno e della laboriosità che hanno avuto le generazioni passate e quella attuale che contribuirà secondo me a aumentare l'impegno dei Trebaseleghe Censi e dare merito alla storia che abbiamo anche per il futuro. Assessore Pizziolo un pomeriggio ricco di programmi tra cui anche la premiazione delle associazioni del territorio e ovviamente anche una ricca programmazione prevista per la serata. Questa sera premieremo tutte le associazioni del nostro territorio perché crediamo che sia anche grazie a loro che abbiamo raggiunto questo titolo di città sono la nostra vera ricchezza, la preziosità della nostra cittadinanza e poi appunto finita la parte istituzionale avremo una serata super ricca con il coro degli Ultra Gem qui in Palazzetto dello Sport e poi in piazzale Fermi abbiamo il Los Massadores dove sarà possibile anche mangiare qualcosina preparato dalla strada del radicchio. Ci troviamo in compagnia dell'organizzatore di tutti questi bei lavori fatti dai bambini delle scuole quanto è stato importante coinvolgere anche le future generazioni? No, è stato interessante coinvolgere tutti i bambini, gli alunni e abbiamo 1300 sagome quindi le infanze, le scuole primarie e secondarie hanno partecipato con entusiasmo nove plessi e gli insegnanti, i 70 insegnanti che hanno dato una mano cioè meglio di così la festa non poteva andare Al 31 marzo l'onere totale a carico dello Stato per il Superbonus supera i 122 miliardi e quanto emerge dai dati mensili di Enea le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi mentre il totale degli investimenti per i lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 111,64 miliardi e adesso parliamo di un evento che si è svolto in Veneto a Vicenza Pompieropoli, bambini e vigili del fuoco insieme guardate Centinaia di bambini hanno preso parte domenica la seconda edizione di Pompieropoli inclusiva manifestazione da anni promossa dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Vicenza e dal Corpo Nazionale dallo scorso anno anche inclusiva questa speciale edizione dopo martedì 2 aprile giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo i bambini fino ai 10 anni hanno potuto vivere nella speciale sede di servizio di Piazza dei Signori il lavoro dei pompieri gli aspiranti vigili del fuoco junior si sono cimentati in un percorso addestrativo hanno salito una scala scesi per il palo dei pompieri spento un incendio sono entrati in una casa piena di fumo attraverso un tunnel per poi affrontare delle prove di equilibrio e salvare un gattino tutte le prove del percorso sono state rese inclusive in particolare per l'autismo facilitate dalla presenza di indicazioni realizzati attraverso immagini PEX utilizzando così la comunicazione aumentativa alternativa alla fine del percorso l'agoniato diploma di pompiere junior presente in piazza anche una mostra di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando di Via Farini che ha attirato l'attenzione di numerosi visitatori che hanno potuto vedere da vicino i mezzi di soccorso e parlare con i soccorritori presente anche Tyson il cane labrador del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco Berici che ha attirato l'attenzione di molti piccoli e adesso un momento dedicato allo sport parliamo di una grande maratona che si è svolta in Veneto 2, 1, GO! è partita, è partita la Venice Night Trail edizione 2024 5.000 pazienza un'emozione incredibile siete stupendi questa vuole essere non una gara ma un'esperienza propria vera e propria che ti fa vivere a Venezia in maniera magica e poi si balla tutti assieme in maniera magica bellissima ben venezia a quest'ora è un sogno e correre in mezzo il sogno una favola che posso dire venezia e venezia un'esperienza fantastica è una notturna venezia è qualcosa di indescrivibile e quindi la rifaremo meraviglioso io abito a dolo però devo dire che venezia è sempre venezia stupenda un'esperienza fantastica prima volta che sono qua con il mio magico gruppo è stato veramente bello davvero venezia è una città fantastica mai vista in questa veste serale di corsa proprio mi è piaciuta tanto intanto una cosa bellissima perché vedi una venezia nascosta senza turisti con tanta gente che ti applaude e che ti entusiasma niente da rifare assolutamente quindi vivere venezia di notte di corsa è tutta un'altra cosa io la vivo anche durante la settimana perché lavoro in piazza san marco però è così è un'altra cosa così c'è anche la parte diciamo divertimento puro e adesso uno sguardo alle condizioni climatiche il promontorio anticiclonico di origine nord africana che ha garantito negli ultimi giorni tempo stabile con temperature sopra la norma inizia a cedere tra martedì e mercoledì il sistema perturbato formerà un minimo depressionario che tenderà a scivolare rapidamente verso sud est lungo il martirreno influenzando parzialmente anche il veneto con delle precipitazioni tra martedì sera e parte di mercoledì accompagnate da un generale rinforzo dei venti dal nord est e temperature in calo è tutto per questa edizione grazie a tutti voi per l'attenzione e buona serata l'attenzione e buona serata l'attenzione e buona serata l'attenzione e buona serata l'attenzione e buona serata